Abbiamo il professore Lattuada, Luigi Lattuada, che è direttore della scuola di formazione in psicoterapia transpersonale di Milano e ha un titolo, lui mi piacciono questi titoli che hanno un mix e mi fa piacere ascoltarlo perché appunto poi, diciamo, attraverso quello che dice ci trasporta in un mondo in cui ci sono intrecci vari, anche con, credo, in questo caso, questa volta, anche con il mondo primitivo, lui è stato in Brasile, ha vissuto in Brasile, l'ha incontrato anche. Grazie, Alfredo. Sì, è interessante perché io sono abituato ormai a sapere che le cose hanno una loro sincronicità, per cui quando mi hai proposto di esserci ancora questa volta ho detto, ma io che centro con la psicologia di comunità, no? E allora ho incominciato, però ho detto sì subito, e poi ho incominciato a riflettere, dunque, allora, qual è il contributo che mi posso dare? Ah, già, sì, dunque, ho fatto la tesi con Basaglia a Trieste, sulle comunità terapeutiche, le case alloggi, poi sono stato in Brasile, sì, nelle tribù, gli indios, eccetera, no? E allora, ok, e ho cercato di comprendere, poi, dato che il mio approccio è transpersonale, di comprendere quale fosse il contributo che potessi dare. E mentre ascoltavo voi, cito alcune delle parole che avete detto, dal legame della socialità, al romanzo personale, allo stigma, all'empowerment della comunità, piuttosto che alla sindrome del greggio, e man mano che tu nominavi queste cose, ecco, certo. Allora io vorrei introdurre un termine che è già nel titolo, vorrei introdurre una medicina che secondo me nella nostra società è trascurata completamente, che è il cerchio, il concetto di cerchio. Se voi ci riflettete nella nostra vita, nel nostro modo di pensare, magari non proprio nel nostro specifico, ma tendenzialmente l'approccio è un approccio quadrato, è un approccio lineare. L'approccio circolare, al massimo, certo, la sistemica ha questa visione circolare, ma il percepire il cerchio, cioè il percepire il campo in ogni situazione, a mio avviso è un elemento che dovrebbe essere considerato e che potrebbe dare un contributo a tutto quello che abbiamo detto. Adesso non voglio farla troppo teorica, ma incomincio a dirvi, parto un po' dalla storia, così magari comprendiamo un po' meglio quello che voglio dire col concetto di cerchio. Come dicevo, quando mi hai chiesto, ho cominciato a pensare, dunque sì, le comunità, mi ricordo a Trieste, le case alloggio, il tentativo di prendere in carico il disagio come parte della società, però tutto questo lo sentivo con una certa tristezza, con una certa ideologia, come se mancasse qualche cosa. Io non sapevo bene cosa, avevo 28 anni, e poi sono finito in Brasile. Io do al Brasile il merito di avere favorito una mia, che potrei dire rinascita, rinascita spirituale. E in Brasile ho incontrato i rituali Yoruba, i rituali afro-brasiliani, dove il gruppo, cioè la gente si prende per mano, canta insieme, danza insieme, la gente va a curarsi e viene curata insieme, e tu senti questa presenza, questa forza del campo, questa forza del cerchio. Senza andare in termini troppo esoterici, però in termini proprio di comportamento. Da medico occidentale ci sono andato le prime volte con un giudizio ipercritico, con sì, vabbè, ma queste cose magico-superstiziose, no? E ho portato tutta la mia occidentalità al cospetto di queste cose. Adesso ve la faccio breve, ma ho avuto delle trasformazioni profondissime proprio lì dentro. E allora ho compreso il potere del cerchio è intanto che la persona rompe il proprio isolamento, proprio di stigma, rompe il proprio isolamento. La malattia fondamentalmente è un viaggio nell'ombra e una separazione. Il cerchio ti offre, ti accoglie e quindi rompe l'isolamento, ti offre ascolto e ti offre un luogo sicuro, un temenos, uno spazio sacro dove affrontare il tuo viaggio di ritrovamento di te, dove ritrovare il tuo daimon, dove permetterti di entrare nell'ombra, vivere tutta la tua ombra accolto e sostenuto e riuscire. In più il cerchio ti offre la molteplicità. Non c'è questa linearità. Io col terapeuta, io e te, o magari se andiamo in un'ottica lineare, adesso va di moda la multidisciplinarità, fare rete, ma sono diversi individui che ognuno pensa alla sua parte. Il cerchio, inteso in questo senso, e poi lo vedremo anche in un'ottica psicoterapeutica, diventa il luogo dove non c'è il terapeuta che cura, ma le diverse posizioni sono posizioni archetipiche, offrono diversi sguardi alla persona. La persona può, appunto, comprare il suo viaggio essendo guardato da diverse posizioni, ricevendo diversi livelli di qualità, di risorse, cioè può accedere all'archetipo e alla molteplicità degli archetipi che ci sono all'interno di un cerchio, di una comunità. Questi sono alcuni degli aspetti. In più vive un'esperienza integrale, non mentale. Perché se poi torniamo alla visione, semplicemente alla visione olistica, oppure anche alla visione gruppo-analitica o alla visione umanistica di Rogers e via di seguito, sappiamo che la totalità è più della somma delle parti. Evidente. Il cerchio, perché dicevo la medicina, il cerchio introduce all'interno di qualsiasi relazione la medicina dell'ineffabile, la medicina, perché io parlo di transpersonale o di spirituale, introduce quel qui di in più che non lo nomini e non lo cogli nelle parti. È certo che è ineffabile, ma è qualche cosa che ciascuno dice. Non a caso è il cerchio, non è il quadrato. È qualche cosa di ineffabile, è qualche cosa che nessuno riesce a cogliere, se non... come fai a cogliere l'ineffabile? Come fai a cogliere il potere che il cerchio ha che è più della somma delle parti? Lo puoi fare con il vuoto, con l'ascolto, con la padronanza dell'esperienza interiore, con il riconoscimento di ciò che c'è oltre il parco scenico, che magari non è almeno nominabile, appunto è ineffabile, ma è qualche cosa che nasce come? Attraverso l'insight, attraverso il sentire, la riconnessione con il sé. La malattia è prima di tutto perdita di contatto con il sé, se lo diciamo in psicologia. Se lo diciamo con un'ottica sciamanica, è perdita di contatto con lo spirito dell'anima del mondo. Se lo diciamo in un'ottica sociologica, è perdita di contatto con la comunità. È comunque una disconnessione. Ma questa disconnessione non lo raggiungi cercando di mettere insieme dei pezzi. La connessione lo raggiungi creando un campo unitario, favorendone alla persona la percezione dell'unità. Non la cogli attraverso un pensiero razionale, il quale è nel quadrato. Parlevate prima di pensiero critico. Certo, il pensiero critico è un ottimo livello, ma a mio avviso è il terreno dal quale spiccare il volo. Devi avere un pensiero critico per superare il wish of thinking, per superare le proiezioni, per superare i pensieri mitologico o magico, ma dal pensiero razionale, dal pensiero critico del quadrato, questo pensiero critico del quadrato non dovrebbe impedirci di cogliere l'ineffabilità del cerchio, che io chiamo pensiero integrale, oppure il pensiero intuitivo, che il pensiero integrale è più del pensiero intuitivo, è quel essere pensati dal sé. Perché viene così trascurato? Perché noi trascuriamo l'esperienza interiore, noi trascuriamo il silenzio, il vuoto, l'ascolto, noi trascuriamo il lasciare andare. Tutto questo che io ho conosciuto partendo dalle prime esperienze brasiliane nell'82, però è assolutamente in linea con tutto quello che noi possiamo pensare in un'ottica di meccanica quantistica, in un'ottica delle antiche tradizioni spirituali e anche in un'ottica psicologica, diciamo così, più avuto, o in un'ottica di esperienze interiore. Cosa ci dice la fisica quantistica? Il vuoto è il luogo dal quale tutto emerge, oppure il flusso di coscienza quantica dal quale collasso della funzione d'onda. Tutte queste, adesso senza farlo troppo lungo, su questi aspetti, però sono aspetti che sostengono il valore e l'importanza di rintrodurre nella nostra società un concetto di cerchio, cioè di sguardo unitario. Il cerchio è anche l'archetipo dell'un, dell'unità, ovviamente, che può essere chiaramente o l'uroboro, cioè nel quale tu continui a girare a vuoto, oppure l'unità, la perla dell'inizio, direbbe Neumann, non credo, quindi il luogo dove tu ritrovi l'unità. Ma questa unità non la ritroviamo, come ho detto prima, a mio avviso, mettendo insieme delle diverse professionalità. La ritroviamo facendo in modo che ciascuno raggiunga la sua unità interiore, la propria integralità. E allora ripensiamo al cerchio. Anche noi, qui in questo momento, anche se siamo in uno schermo super quadrato e lontano, questo è quello che avviene sul palcoscenico. Ma se noi facciamo un minimo di attenzione, io dico che c'è una prima attenzione che è quella ordinaria. La prima attenzione è stiamo partecipando a una conferenza online davanti a uno schermo con dei quadratini. nella seconda attenzione siamo in un cerchio, siamo in un campo di eroi in viaggio, eroine in viaggio verso se stessi che stanno dando un contributo all'umanità. Percepire questo già è percipire il cerchio, percipire il campo che c'è tra di noi, seppur a distanza, seppur... e questo campo come lo percepiamo? Attraverso un'espansione dello stato di coscienza. Nella mia prima attenzione sto ascoltando te, guardo i nomi, chi sarà questa signora, Anna Rita, Rosaria, chi sono, ma... no? Prima attenzione, quadrato, giusto? Cerco di essere gentile, simpatico, ascoltare, è tutta prima attenzione, è tutto quadrato. Nel cerchio io ascolto, ti guardo, negli occhi, sto in silenzio, o in silenzio dentro, quantomeno, e colgo il campo che c'è tra di noi e questo campo non è una fantasia new age o chissà che. Questo campo è concreto perché questo campo è il cerchio che è fatto dalla somma delle parti. È qualche cosa di più di noi insieme. Noi qui siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siamo qualche cosa di più di noi stessi e questo qualche cosa di più è il cerchio. La metafora del cerchio vuole descrivere anche questo qualche cosa di più che ci attraverà in questo momento. Non solo, ma se noi immaginiamo questo come sentiamo o meglio ci vediamo come cerchio cosa succede? Il cerchio ciascuno è al proprio posto. Non c'è un trovare il proprio posto. Tu sei nel cerchio e ti rendi conto che questo è il tuo posto e vedi che tutti gli altri sono al loro posto come i punti del cerchio. Il cerchio come principio unificante ci consente di cogliere che ciascuno di noi è al proprio posto. E quindi cosa succede se ciascuno di noi è al proprio posto? Se io sono al mio posto tu sei al tuo posto. Cioè tutto è perfetto così che non è ancora una volta un attività del new age. Tutto è perfetto così vuol dire che la sincronicità di quello che sta avvenendo in questo momento è frutto del kairos. Ognuno di noi con la sua storia con la sua vita con tutto quanto quello che è e con i suoi pretesti per essere qua oggi si ritrova in questo momento a incontrarsi e a convergere in un cerchio ciascuno al suo posto a sentirsi dire quello che si sta sentendo dire a avere detto quello che sta dicendo ad ascoltare o non ascoltare gli ha risseguito. Se noi comprendiamo perché dicevo prima se noi introduciamo la medicina del cerchio proprio come mandala come principio ordinatore della nostra esperienza nulla di quello che abbiamo fatto o detto o quello che siamo va cambiato ma a proposito di empowerment della comunità se noi ci vediamo come cerchio tutto quello che noi possiamo dire a fare acquista un valore ulteriore acquista un potere le tradizioni antiche sapete che cosa? Una delle cose principali dicevo prima che cosa trovi in quei cosa ho trovato in quei cerchi tradizionali quella cosa che loro chiamano la scè che cosa è la scè è il potere del cerchio c'è un potere spirituale che noi possiamo riconoscere quando ci ritroviamo insieme se noi cogliamo che una comunità è di più della somma delle parti noi possiamo prenderci conto che è che in psicologia transpersonale si chiama il sé transpersonale ognuno ogni individuo ovviamente è un sé che nel suo posto nel cerchio reagisce con un sé transpersonale la coscienza collettiva l'inconscio collettivo di Jung con una dimensione che ha una sua potremmo dire una sua è psichicamente significativo ha una sua forza una sua azione e una sua capacità di cura e di trasformazione perché è un archetipo unificante è un archetipo che favorisce l'armonizzazione è un archetipo che c'è un luogo un temeno su uno spazio sacro che accoglie chiunque sia all'interno di questo spazio si senta parte e voglia comprare il suo viaggio di graduale armonizzazione delle proprie ombre di graduale superamento dei propri individualismi verso la sinergia e la sintonia con il cerchio tendenzialmente le tribù i villaggi degli indio sono capanna in cerchio in questo caso mi riferisco ai Kayapò dell'Amazzonia nel mezzo della aldeia cosiddetta del villaggio c'è la casa del guerriero chiamata e qual è la funzione di questa casa del guerriero? quando una persona ha un problema magari un problema tra marito e moglie magari una malattia una sofferenza una paura va nella casa del guerriero al centro e incomincia cosa dicevi tu prima narrazione legame della socialità narrazione personale e racconta a voce alta il suo dramma racconta a voce alta il suo problema e tutti quanti stanno ad ascoltare nelle tribù la cota invece si siedono in cerchio ovviamente c'è un bastone in mezzo ognuno che deve parlare si alza va a prendere il bastone torna e parla e quando lui parla ha il potere del cerchio e tutti gli altri stanno in ascolto in ascolto a proposito di stigma o a proposito di diversità o a proposito di non ascoltare stanno in ascolto fino a quando ha finito e mette giù il bastone e l'altro prende il bastone e se deve dire qualcosa parla pensiamo ai nostri politici in tv e possiamo capire la differenza tra un quadrato e un cerchio grazie per lui l'ottica che proponi tu ci riporti a un cerchio che è magico ma magico non perché ci sono i fantasmi oppure le streie ma è magico perché si riattiva l'archetipo l'archetipo della relazione non so qual è l'archetipo sicuramente diciamo o perlomeno in questo archetipo c'entrano tutti sotto archetipi no le varie le varie figure rappresentative no penso che quando gli indios no si mettono le maschere vogliono rappresentare parti dell'essere umano che però hanno radici profonde lontanissime e tutto questo certamente è molto molto affascinante ma non è affascinante perché deve essere affascinante ma perché diciamo l'essere umano ha bisogno ci sono i bisogni dello spirito così come ci sono i bisogni dell'anima ci sono i bisogni dello spirito e i bisogni dello spirito sono collegati a tutta questa spiritualità che non è una ecclesiastica voglio dire ma senza voler essere polemico con niente o con niente non è istituzionale è una spiritualità spontanea che nasce dalla condivisione ma è perfetto quello che dici è assolutamente perfetto mentre parli mentre hai accennato la spiritualità e mentre ne parli la cosa assurda è che tutti quanti si riempiono la bocca di scienza e tendenzialmente si vede la spiritualità come una cosa diffidente rispetto alla scienza ma c'è poco c'è è più scientifico della spiritualità non so se c'è qualcosa o l'altro perché la spiritualità è quel quid in più della somma delle parti semplicemente è quel quid in più che c'è tra di noi è quel fatto che ti fa sentire ah sì ti ho capito sono in sintonia oppure non sono in sintonia ah sento che mi si espande il petto e respiro meglio oppure mi sto annoiando il recupero di una spiritualità laica il recupero di non avere di un diritto alla spiritualità di non avere paura di parlare di spiritualità perché la spiritualità è l'essenza di ogni cosa è ciò che dà il mana direbbero gli antichi il potere di un oggetto ha un mana e il mana è lo spirito dell'oggetto cioè è come abbiamo detto che cosa fa sì che questo abbia uno spirito tu parlavi voi parlate di relazione giusto ma la relazione non è due la relazione è tre è io tu è il campo che c'è tra di noi la relazione tra di noi non è a sei è a sei più l'unità e questa unità è la spiritualità possiamo chiamarla come vogliamo ma è quella cosa lì l'essenza che se non cogliamo stiamo perdendo quello che unifica quello che veramente cura per questo io l'ho parlato come cerchio ma questo perché la metafora del cerchio può stare per spiritualità può stare per campo può stare per essenza può stare per unità può stare per espansione della coscienza può stare per metafora di una semantica di secondo livello però certamente è qualche cosa che è stato perduto introdurre il cerchio per me è un'altra rivoluzione come quella copermicana ai tempi non volevano guardare nel telescopio per la terra allo stesso modo dobbiamo guardare nel telescopio del vuoto nel telescopio dell'ascolto silenzioso perché da lì troviamo l'essenza del nostro esso umano e l'essenza stessa dell'atto di guarire l'essenza stessa del processo trasformativo della comunità per esempio mi verrebbe utilizzare una parola a proposito della condivisione la coinodinia cioè la mettere in comune il dolore mi verrebbe di declinare anche quello che sta dicendo il professore con la mente gruppale o la funzione gamma di cui parla con Rao insomma ci sono vari accostamenti che ovviamente mi vengono in mente rispetto a ciò che ho sentito sì sì certamente la cosa bella è questa che ci sono è detto in tantissime situazioni c'è Hamid Goswami per esempio che è un fisico in pensione indiano che ha insegnato all'università dell'Oregon per 30 anni ha scritto diversi libri tra i quali The Self-Aware Universe l'universo autocosciente e lui riporta una descrizione straordinaria di questo concetto e dice ma la nostra scienza da 400 anni ha messo la materia alla base dell'universo tutti danno per scontato che alla base dell'universo c'è la materia ma lui dice guarda che la fisica a parte che le tradizioni antiche ma la fisica quantistica si dice che alla base dell'universo c'è la coscienza e allora pensa alla rivoluzione copernicana se tu cogli e hai ovviamente si parlava prima di educazione un'educazione all'esperienza una epistemologia che ti insegnino a guardare il mondo come se alla base dell'universo ci fosse la coscienza in questo caso mi vorrebbe da dire forse anche la comunicazione inconscia non soltanto la coscienza certamente la coscienza nei suoi livelli inconscio conscio e superconscio certamente poi c'è tutto un discorso molto complesso cioè complesso ma anche semplice allora la teoria l'idea è che il collasso della funzione d'onda attraverso l'osservazione fa collassare e quindi quello diventa la coscienza l'atteggiamento quanto più sei creativo quanto più fai collassare una coscienza superconscia cioè oltre le tue abitudini oltre le tue credenze oltre i tuoi condizionamenti quanto meno sei consapevole quanto più agisce la coscienza inconscia e quindi agisce secondo schemi ripetuti il copione pensa al copione familiare ai copioni culturali e quindi mette la creatività interiore come elemento di base per questa capacità di connettersi quindi di fare collassare diciamo così una coscienza superconscia piuttosto che inconscia mentre parlavo mi veniva in mente prima nelle cose che ho detto accennavo a croce che parlava della sovranità della relazione in realtà non ci avevo mai riflettuto però probabilmente poi non so comportatemi se può essere così arrivare a dire che in uno stato non c'è né sovrano né suddito perché in realtà la sovranità della relazione considerando anche che croce era un po' il padre della politica dei distinti che riprendeva un po' diciamo l'idea del cerchio egeliano e quindi della chiusura del cerchio io pongo una domanda questa sovranità della relazione credo di poter dire che veramente sia come diceva il professor Lattuala qui qualcosa di più del semplice essere due cioè la sovranità della relazione significa che non siamo più due ma siamo almeno tre o siamo tutti quanti in quella pluralità di varietà di attitudine di confronti di diversità creiamo ecco perché la sovranità veramente grazie non ci avevo mai pensato assolutamente sì grazie assolutamente sì e capisci che quando lo vedi è evidente che la relazione è tre e non è due e allora se noi cogliamo che la relazione è tre e non due questo è uno dei punti epistemologici diciamo così che mi sono nati dalle esperienze in Brasile in poi se noi comprendiamo che la relazione è tre cioè uno capisci che la nostra vita cambia tutto quello che sappiamo rimane ma ci comportiamo cominciamo a comportarci in modo diverso cioè avere bisogno di un'epistemologia diversa di una fenomenologia diversa di una nomenclatura diversa nominare le cose in modo narrarle in modo diverso e allora se io guardo perché può essere utile se io guardo la comunità tu parlavi prima di associazionismo guarda l'associazionismo come il cerchio in azione certo posso dire una cosa guarda io ho fatto sempre un insegnante praticamente uno dei miei miei figli sono avvocato insegnante io ho spessissimo forse senza riflettere particolarmente su questa tua idea del cerchio e forse neanche sull'idea che ne so di Croce di Eger quindi l'importanza del cerchio comunità ma forse inconsciamente sì perché ho sempre fatto molto spesso tutte le volte che potevo lezioni in cerchio quindi quando ci siamo incontrati con i ragazzi mi hanno sempre detto che il bello il fascino il piacere della mia lezione è appunto questa questa posizione che favorisce veramente lo scambio non ci avevo riflettuto però posso dire una cosa critica sì è bellissimo quello che stiamo dicendo è il fondamento della comunità e dalla comunità rinasce la vita ho l'impressione e collegandoci anche a quello che diceva prima il fico si chiama mi pare di nome ora non ricordo il cognome parlava del medico che è diventato un burocrate io purtroppo posso dire e per il mio lavoro i miei lavori e per incontro con gli altri che ormai la burocrazia ha invaso tutti i campi il medico è un burocrate l'insegnante è un burocrate l'ingegnere l'avvocato purtroppo è un burocrate ecco io credo che se noi non ci stacchiamo da questa situazione in cui veramente stiamo togliendo umanità altro che l'unità del cerchio qui siamo proprio delle monadi isolate degli atomi che non riescono più a far vivere la loro umanità e allora sì ripartire dalla comunità ma rifondare la società politica purtroppo cioè io non credo che se noi rimaniamo in questo tipo di società così come l'abbiamo costruita fino adesso riusciamo facilmente a fondare qualcosa di diverso in questo caso che tutti si è andato in bravi voglio dire bisogna avere un'esperienza diversa per fondare una società diversa che veramente riscopra il valore della comunità attenzione che la comunità in questo senso secondo me è anche umanità e come diceva Kant l'umanità è dignità e la dignità è umanità guardate che togliere questa dimensione del cerchio questa dimensione della relazione ridurre tutto adatomi a burocratizzazione significa togliere l'umanità e guardate che significa togliere l'umanità significa togliere dignità e quindi significa togliere la possibilità della costruzione o del ritrovarsi in una comunità che dovrebbe essere il fondamento di una realtà assolutamente sì assolutamente sì perché io sono molto ormai diciamo così legato a questa visione transpersonale del cerchio di seguito di tutto quanto io negli anni prima di andare in Brasile era il 68 quindi figurati cambiare il sistema cioè assolutamente sì poi sono andato altrove cioè dobbiamo andare altrove come hai detto giustamente ma questo andare altrove è uno stato di coscienza che io lo sintetizzo con passare dal quadrato al cerchio e io faccio lo psicoterapeuta e vengono da me tante persone il cui problema principale è loro qual è il lavoro che hanno esatto non ce la fanno più quindi certo che sì bisogna però bisogna cosa disidentificarsi da ruolo se tu vedi che stai facendo che sei burocrate perché il cerchio come luogo dove le ombre vengono a poco a poco se tu sei isolato nel tuo fare il burocrate ti guardi intorno vedi gli altri burocrati e dici vabbè ma se io lascio cosa faccio sei isolato separato disconnesso se tu l'associazionismo perfetto se ci sono se si creano cerchi certo è vero e tu che ti senti solo e stai lì con tutti i tuoi pretesti a fare il burocrate e sai che c'è il cerchio vai esattamente come fanno come abbiamo fatto per millenni prima della storia vai nel tuo cerchio e ti metti a piangere a urlare a dire ma cosa sto facendo sono qui e il cerchio ti accoglie e ti ascolta e ti aiuta a processare le tue ombre e tu trovi un altro un altro ove dove andare certamente che si non è un caso che anche migliaia di questo periodo bellissimo questa metafora è bellissima quest'ultima tua metafora è bellissima questo ritornare a piangere nel cerchio perché diciamo ci manca forse anche il luogo dove piangere fa pensare a degli spunti assolutamente affascinanti qui Grazie.